Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Roberto Di Giacomo. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Bivio A1, oriante di Varico. Sulla FIPL in direzione Firenze, coda per lavori tra lo svincolo di Empoli e Montelupo Fiorentino e tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina. Verso Livorno, coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Chiusa l'uscita di Tirrene per chi proviene da Firenze. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra. Corre e strincimenti, percorsi alternativi sulla provinciale 12 o per viaggi più lunghi sull'autostrada 11. La statale 64 Porrettana è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a caso di un movimento frannoso tra la località Pavana e Ponte della Venturina. Morsi in Toscana Info e servizi in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!